Che sta facendo? Ronny! Sei qua zitta! Ronny! Ronny Fuller e Alice Manning. Quella bambina è scomparsa solo da una notte. È possibile che sia ancora viva. Una ragazzina è scomparsa. Da due giorni. Mi sono distratta appena un minuto. Brickley! Vogliamo trovare vostra figlia. Possiamo entrare? Entrare? Perché? Cerchiamo sua figlia. Abbiamo ragione di credere che Alice sia in qualche modo implicata. Abitavano a neanche tre miglia da lì le due criminali. Questa volta il caso è diverso. Quando l'hai vista per l'ultima volta? Non lo so. Gradirei tornare a casa subito. Alice, sa dov'è la bambina? Lei non è madre, vero? Dove eri quando Britney è scomparsa? Perché non fai il tuo lavoro? Se Ronny volesse nascondersi, dove andrebbe? Ha un nascondiglio? Non ha fatto niente. E il giocattolo come è arrivato là? Dov'è nascosta? Ah, non ne ho idea. Ho messo tanto tempo a ritrovarla. Vuole usare le manette? Un'emergenza? Dov'è nascosto tempo a ritrovarla. Dov'è nascosto tempo a ritrovarla. Un'emergenza? Torniglio?